Buonasera, ben ritrovati in questa giornata storica per la Repubblica di San Marino che vince per la prima volta la medaglia alle Olimpiadi, la vince Alessandra Perilli, è un bronzo bellissimo, quello conquistato questa mattina a Tokyo in Giappone, una medaglia che San Marino non aveva mai vinto nella storia delle Olimpiadi, nella finale del Trap, dopo aver conquistato il secondo posto nelle qualificazioni, Alessandra Perilli ha dimostrato di essere davvero una fuoriclasse, ha vinto la medaglia di bronzo in una finale tiratissima, ne parleremo con i nostri ospiti, naturalmente vi faremo vedere le immagini della finale, sentiremo la voce bellissima, emozionante di Alessandra Perilli, io vado subito a salutare gli ospiti che abbiamo qui in studio, poi saluteremo anche quelli in collegamento, comincio con il segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera segretario e buonasera ad Arianna Perilli, sorella di Alessandra, Arianna, che è stata davvero una grandissima giornata, allora facciamo una sorpresa ai nostri telespettatori, ma la facciamo anche ad Arianna Perilli, perché noi siamo collegati proprio con Casa Perilli, dove vedo mamma Grazia, vedo il papà Claudio, vedo anche il compagno di Alessandra Perilli, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Direi di cominciare con Grazia, con la mamma, perché abbiamo sentito, poi la ascolteremo tra poco, Alessandra Perilli ha detto, mi sono isolata da tutti, mi sono isolata dal mondo, l'unica persona che ho chiamato è stata mia mamma, e allora quella telefonata con Alessandra, quanto è stata importante, grazie. Guarda, scusa ma mi commuove questa cosa perché l'ho sentita, quasi era come implorarmi, anche che gli dicesse una minima cosa, però l'importante è che potevo rassicurarne in quel momento, l'ho detto solamente quello che io sento sempre dire dal papà o dagli altri, Ale non ti devi inventare niente, devi un piattello dopo l'altro, e lei mi diceva sì mamma, grazie, e questo è la prima sera anche, cioè la sera prima quando mi ha detto mamma è dura, e io gli ho detto, Ale non mollare, credi in quello che hai fatto in sacrificio fino ad oggi, dove vuoi arrivare, i tuoi sogni sono i tuoi, li hai in mano, e lei mi ha detto sì mamma, grazie, grazie, e così ci siamo lasciati con, lei mi ha detto buongiorno, io gli ho detto buonanotte, perché sappiamo gli orari infuso, è sempre stato il bisogno di sentire una parola di conforto, perché lei ci aveva dato il fermo dal 22 di luglio, e ha detto non ci sentiamo più, non parliamo più, neanche col bambino, quindi c'è tutta un'emozione molto ristretta, molto trattenuta, non è stato facile, fa di sentire che noi stavamo comunque sereni, ecco, e vabbè comunque sono contenta che alla fine ha portato... Grazie, torniamo tra poco, e torniamo tra poco a casa Perilli, sentiremo anche il papà Claudio, anche Alessio il compagno di Alessandra Perilli, io volevo sentire il segretario, perché sono belle le lacrime di gioia di mamma Grazia, della famiglia, anche di Arianna, perché questa veramente, segretario, è una giornata memorabile che rimarrà nella storia, non tanto dello sport, ma credo dell'intera Repubblica di San Marino. Senza ombra di dubbio le rispondo di sì, è una giornata che abbiamo definito tutti storica, non solo per i connotati prettamente sportivi che ha, ciò che ha fatto Alessandra, ma per quello che si riesce a generare attraverso un sentimento molto particolare, come quello che stiamo tutti quanti vivendo, come quello che abbiamo ascoltato e sentito poco fa dalla mamma, dalla sorella, dai suoi familiari, di quanto dietro ad una conquista poi ci sia chiaramente un valore umano, un valore familiare, un sacrificio fatto di più componenti che portano poi chiaramente al risultato. Per cui, al di là della giusta, giustissima, diciamo così, riservatezza che hanno sempre mantenuto la famiglia Perilli attorno ad Alessandra in termini di sentimenti, io credo che l'intera nostra comunità sanmarinese oggi si deve stringere attorno ad Alessandra per insieme tutti quanti tornare a riscoprire quei veri e sani valori di comunità, quei veri e sani valori di popolo, di paese, di nazione, che sono l'elemento attorno al quale, se lo applichiamo anche a tante altre circostanze, fa grande, nella sua piccolezza, il nostro paese, la nostra comunità, la nostra popolazione. Questo non c'è ombra di dubbio. Assolutamente, assolutamente. Arianna, tu hai vinto tanto in carriera, perché hai vinto per tre volte il campionato europeo, lo hai vinto prima con l'Italia, poi lo hai vinto con San Marino a Baco, è stato un successo assolutamente straordinario, però Alessandra aveva in mente questa medaglia olimpica, lei quel quarto posto di Londra le era rimasto lì, nel senso che lo ha detto più volte, lo ha fatto capire. Oggi è arrivata la medaglia alle Olimpiadi, che cosa significa per Alessandra, per la vostra famiglia, ma per tutta San Marino? Allora, questa medaglia aveva un peso grossissimo, perché dopo quel quarto posto di Londra, che ancora tutt'oggi, cioè tutt'oggi, fino a ieri, ci sentivamo risuonare nelle orecchie, perché comunque veniva fuori sempre. Oggi è stata la svolta, comunque l'Ale non doveva dimostrare niente, nel senso che quello che sapeva fare l'aveva già dimostrato più volte nelle varie coppie del mondo, mondiali, europei, quindi questo è stato solamente un valore aggiunto a quello che già lei sapeva fare e aveva tutta la forza per poterlo fare, tutti i sacrifici positivi o negativi che bisogna fare, insomma, per raggiungere certi risultati. Quindi è un orgoglio, cioè non c'è... ripeto, ancora oggi è appena successo, stiamo ancora metabolizzando, diciamo, la cosa, però è un orgoglio immenso. E' certo, qualcosa di assolutamente straordinario. Quello che ha fatto Alessandra Perilli, pensate, è entrata in finale con il secondo punteggio, beh, la Stefecekova, la Slovacca, ha fatto il record olimpico e il record del mondo con 125 su 125, e Alessandra ne ha colpiti 122, un punteggio stratosferico, è entrata come seconda. Io volevo anche spezzare una lancia per Gianmarco Berti, perché 121 nella gara maschile aveva cominciato con 50 su 50, poi ha sbagliato qualche piattello, ma ha finito a 121. È un punteggio che solitamente vale sempre la finale, ha fatto una gara bellissima, è rimasto fuori per un solo piattello, ma credo che oltre ad Alessandra, anche Gianmarco, hanno davvero tenuto alto, come tutti i nostri atleti, la bandiera di San Marino in queste Olimpiadi, e non è ancora finita, perché sabato ci sarà il Mixed Team. Allora, io direi di fare una cosa, andiamola a vedere il servizio sulla finale olimpica del trap femminile sulla medaglia di bronzo di Alessandra Perilli. Strepitosa già dalle qualifiche, quando mette a segno un 24 su 25 la prima sessione, poi due pieni, seconda e terza, e altri 48 nella quarta e quinta, per un totale di 122 piattelli su 125, che la portano fino al secondo posto, dietro solo alla Slovacca Stefecekova, capace di realizzare il record mondiale olimpico, con 125 su 125, mai ottenuto da nessun'altra atleta. In precedenza sarà lei la meritatissima campionessa olimpica. Alessandra Perilli alterna nella prima parte della finalissima, errori a fasi brillantissime, dopo 15 piattelli e prima davanti anche alla Stefecekova, spara benissimo anche l'americana Brovning, e non è un caso che sarà questo il podio finale. Ma andiamo con ordine, la prima a lasciare è l'australiana Penny Smith, la seconda è l'italiana Silvana Stanco, restano in quattro e la tensione sale a dismisura quando Alessandra, in vantaggio per lunghi tratti, si fa raggiungere dalla Scanlan il piattello decisivo, il numero 35 della finale. Alessandra sbaglia, l'errore potrebbe essere fatale se la Scanlan tritasse il suo, così non è. Bandiera rossa, anche per lei, allora tutto il peso specifico di un bronzo, che è un macigno, cade addosso alla Perilli, che non fallisce ed elimina l'australiana, inarrivabili l'oro e l'argento andati rispettivamente alla Slovacca Stefecekova e l'americana Brovning San Marino. E medaglia di bronzo olimpico, grazie ad Alessandra Perilli. C'è gioia, c'è commozione, c'è davvero di tutto in questo momento qui in Giappone e a Tokyo per salutare questo grandissimo risultato di Alessandra Perilli. E allora abbiamo sentito il nostro Lorenzo Giardi, il suo entusiasmo insomma in questo servizio per raccontarci la prima medaglia di San Marino alle Olimpiadi e velocemente, perché poi andremo ad ascoltarla proprio Alessandra Perilli al microfono di Lorenzo Giardi, segretario e anche Arianna, dicevo di Gianmarco Berti. La gara è stata fantastica anche la sua, poi ci sono dei dettagli, delle cose che possono decidere in un verso o nell'altro. Segretario. Beh, io faccio grandissimi complimenti anche a Gianmarco Berti, ha dimostrato di tenere comunque il campo in maniera eccezionale, era una gara difficile, si sapeva, ma l'ha saputa scalare fino praticamente alle fasi finalissime. Per cui tanti, tanti davvero complimenti anche a Gianmarco, deve essere anche per lui un grande stimolo per continuare a fare anche meglio, ancora di più, anche se hanno fatto il massimo, ma perché credo che tutto il mondo sportivo sanmarinese, il comitato olimpico in primis, continuerà a puntare sui nostri due atleti che oggi sono a Tokyo, domani potranno essere altrove senza ombra di dubbi. E certo, Arianna, per quanto riguarda Gianmarco Berti, io poco fa ho detto non è finita perché c'è ancora il mix team, e loro insomma hanno dimostrato di saperci fare come e di puntare un'altra volta al podio, però dicevo, Gianmarco, una gara bellissima. Gianmarco ha fatto una garona, quella è per lui una medaglia, perché non aveva tanta fiducia, e a volte, almeno quando lo riconoscevo io, nel senso che mi allenavo con lui, perdeva di fiducia. Questa qui è stata, diciamo, la gara che gli ha detto, ok, ci sono, posso farcela, è stato bravissimo, è spettacolare, e poi sono gare molto difficili, molto difficili. Quindi, quelle sono persone che loro fanno quello di mestiere, dalla mattina alla sera si alzano e dicono, ok, oggi dove ci andiamo ad allenare? È diverso. E lui ha tenuto testa, ed è stato grande, veramente grande. La conferma, insomma, che siamo di fronte a due talenti naturali, come Alessandra Perilli e come Gianmarco Berti, perché insomma Gianmarco era, tra l'altro, al debutto alle Olimpiadi, e questa è una gara che pesa tantissimo. Io tornerei a casa Perilli, da mamma Grazia, dal papà Claudio, da Alessio Pinotti, che è il compagno, e vorrei sentire proprio il papà Claudio, il papà perché, insomma, so, grande passione per il tiravolo, grande passione naturalmente per entrambe le figlie, per Arianna, che ha regalato grandi soddisfazioni, per Alessandra, che è stata capace di portare a casa una medaglia dalle Olimpiadi. Claudio, che cosa provi in questo momento? Buonasera a tutti. Cosa provi in questo momento? È difficile. C'è gioia, emozione. Non saprei dirlo che cosa provi in questo momento. Adesso ho voglia che venga giù e di rivederla. Tutto qui. Claudio, c'è ancora una gara da fare, perché, insomma, il mix team, visto come hanno sparato nel singolare, poi sappiamo che ogni gara fa storia a sé, ogni giorno dipende un po' da come ci si sveglia alla mattina, però hanno dimostrato di poterci stare, hanno dimostrato di essere dei campioni assoluti, sia l'Alessandra che Gianmarco. Assolutamente sì, ma io li conosco bene a tutti e due, che quando sono insieme a sparare possono dare del filo da torcere a tutti. Poi hanno una bella carica adesso, perciò gli diamo fiducia. Allora, grande fiducia. Claudio, ti chiedo di passare il microfono ad Alessio, al compagno di Alessandra Perilli, perché, insomma, Alessio, adesso come la mettiamo? perché quando torna, torna con la medaglia, eh? Adesso torna e è una grande festa. Ha fatto quello che voleva fare, al meglio, al meglio perché ci ha regalato un sogno a tutti e quindi va bene così. L'importante è che fa quest'ultima gara del mix e poi torna tra noi e la festeggeremo come è giusto che venga a festeggiare la campionese. Assolutamente. Alessandra ha detto, ha ripetuto più volte, mi sono isolata da tutto e da tutti. Sei isolata anche da Alessio. Con te parlava un po' prima delle Olimpiadi, parlava della gara o gli argomenti erano altri? No, allora, le ultime volte ci siamo visti è stato più una gioia. Perché... C'è emozione, eh? C'è emozione da parte di Alessio Pinotti. Alessio. E tutti i discorsi erano molto basati su come stai, come non stai, come ti vedo bene, come va la giornata. Era tutto un discorso fuori dal tiro perché già l'attenzione era tanta lì e quindi magari nelle parole mie o dei familiari trovava un modo di staccare, di concentrarsi lì, però vedendo che a casa andava tutto bene, figlio stava bene, a casa noi stavamo bene e questa sua tranquillità lei la riportava anche in una futura gara o in uno stato d'animo che le poteva permettere poi di fare quello che ha fatto. Quindi è stato... è stato duro, però se questo poi è il risultato ben venga, insomma. Assolutamente, assolutamente. Allora, noi tra poco torneremo a casa Perille. Abbiamo riunito tutta la famiglia dal compagno d'Alessio Pinotti alla mamma, al papà, ad Arianna che è qui in studio con noi insieme al segretario di Stato allo Sport. Chi non voleva parlare di sogni, di medaglie, era proprio il segretario. Noi l'abbiamo intervistato diverse volte, ci siamo visti alla serata di San Marino Sport Awards proprio per festeggiare gli atleti della Repubblica di San Marino che si erano contraddistinti. Nel 2020 il segretario non voleva parlare delle Olimpiadi, di sogni, diceva aspettiamo, vedremo, insomma perché il sentore c'era che poteva arrivare qualcosa di straordinario. Beh sì, c'era quella piacevole sensazione nel vedere la loro preparazione che ci poteva portare lontano. Poi, è logico, bisogna vivere di sogni, bisogna vivere di obiettivi, bisogna vivere di risultati quando arrivano, però mai anticiparli, per cui la mia filosofia un po' scaramantica in questo caso è stata una virtù e oggi ci troviamo qua di fatto a festeggiare la prima medaglia olimpica del nostro paese attraverso l'impegno e la dedizione di Alessandra e quindi insomma la gioia da un punto di vista anche istituzionale e di sistema dell'intero movimento sportivo samarenese deve essere tantissima. Assolutamente, allora noi facciamo una pausa per la pubblicità torniamo tra poco andremo a sentire le parole a caldo appena è terminata la gara di Alessandra Perilli andremo a rivedere appunto le immagini di questa giornata che rimarrà nella storia della Repubblica di San Marino pubblicità Ancora insieme ancora per parlare di Alessandra Perilli la tiratrice samarenese che ha regalato alla Repubblica di San Marino la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la medaglia di bronzo nella gara del trap femminile è stata davvero una mattinata emozionante allora andiamo a sentire che cosa ha detto la nostra campionessa al termine della gara appena vinto la medaglia di bronzo sentiamo 29 luglio 2021 hai scritto la storia Sì ho avuto un attimo ho avuto un attimo di paura sono sincera quando è uscito il quinto ho detto no non posso mollare non ce la faccio aspettare Parigi con un altro quarto posto sulle spalle no e ho scalato la marcia e ho continuato a andare giù come ero riuscita a chiudermi perché ho avuto momenti che in finale insomma è stata un po' altalenante la finale però era dura c'era aumentato il vento sai l'agitazione comunque si assena una finale olimpica e quindi però dai ce l'abbiamo fatta stanno letteralmente scoppiando i telefoni i complimenti da tutta non solo da San Marino ma potrei dire quasi da tutta Europa guarda io sono in silenzio stampa da quando sono partita praticamente ho spento i social Instagram Facebook non ho poi aperto niente e casa non sento ho chiamato la mamma sono sincera sia stamattina che ieri mattina perché avevo bisogno della mamma avevo bisogno un attimo dell'appoggio però non ho sentito nessuno mio compagno mio figlio non ho sentito nessuno avevo bisogno di stare qui chiusa qui pensare qui in tanto svolata lei e pensare qui basta San Marino San Marino vince la sua prima medaglia olimpica grazie ad Alessandra Perilli sì grazie a voi che avete creduto in me e che io sono riuscita a credere ancora in me possiamo pensare che a San Marino per festeggiarti accada un altro 3 settembre oddio no non lo so guarda grazie appena hai capito che era bronzo a chi hai pensato a me stessa alla fatica a Londra a tutto quello che c'è stato in 9 anni durissimi avevi bisogno di chiudere quel capitolo di Londra sì di metterli proprio una pagina sopra non ne potevo più era uno scheletro sempre lì che ogni tanto sbucava da quell'armadio e mi ero stufata Alessandra sono lacrime di? di gioia gioia tanta gioia e allora le lacrime di gioia di Alessandra Perilli vediamo le lacrime anche di Mamma Grazia della famiglia di Arianna allora tra poco torniamo di nuovo da Mamma Grazia però io volevo chiedere proprio ad Arianna perché insomma queste sono gare a sé la gara olimpica tu hai sparato a Tokyo oppure hai disputato le finali dei campionati europei li hai vinti per tre volte gli europei in carriera ma queste sono gare che portano ad una tensione estrema veramente stare lì in pedana è qualcosa di molto impegnativo al di là del dovere cercare di centrare di colpire il piattello ma credo che l'emozione e soprattutto la testa fanno la differenza sì devi avere una preparazione psicologica ad alti livelli devi saper gestire qualsiasi tipo di emozione che possa essere gioia tristezza qualsiasi tipo perché in quella gara tanto attesa per quattro anni ma tanto veloce perché tu ti alzi la mattina praticamente finita dici ma nel mezzo cosa è successo perché sei talmente concentrata talmente ferma lì che non te ne rendi conto poi dopo fai i conti dopo con quello che hai fatto con quello che perché lì per lì sei come in trance non riesci a ragionare infatti l'ha detto l'Alessandra ho avuto un attimo che mi ero come svegliata poi mi sono subito richiusa perché lì devi avere anche la capacità mentale di avere questi passaggi assolutamente soprattutto quando c'è un errore quando si sbaglia un piattello lì è il momento più complicato perché bisogna ritrovare immediatamente la concentrazione andiamo a casa Perilli da mamma Grazia che l'abbiamo vista commossa nell'ascoltare le parole di Alessandra ma Grazia erano lacrime e sono lacrime di gioia di grande entusiasmo quasi quasi di liberazione Grazia Sì infatti perché comunque è un mix fra il sogno che ha realizzato che è riuscito a prendere il volo quello che lei comunque si portava dentro e poi anche noi che comunque dovevamo in qualche modo supportare in tutto quello che lei faceva e poi che dire c'è il bambino che chiede cioè tutto è tutto un insieme di situazioni che dovevamo comunque portare in positivo in qualche modo per far sì che lei era tranquilla e che dire io sono talmente emozionata che non ho non ho non riesco neanche veramente mi sento ho una liberazione di una felicità che mi esce da tutti i pori vorrei veramente trovare la vorrei urlarlo perché anche per noi è stato sempre un un far felice loro dargli quello che volevano non ci siamo accontentati di mandare a sparare al prosciutto volevamo vedevamo in loro una grande potenzialità nel loro volere con amore questa era una passione questo tiro e quindi tutte le settimane i fine settimana le mandavamo fuori o andavamo fuori noi con loro ed erano per chi non aveva ancora sponsor e altro erano dei gran soldi però non mi è mai interessato non ci è mai interessato niente per loro questo e altro e questa è la soddisfazione ripagata per tutto quello che sta incoronando oggi veramente insomma è un grande risultato allora segretario quando si dice l'importanza della famiglia dei genitori che naturalmente sono dietro a questi ragazzi a questi campioni adesso una campionessa come Alessandra come lo è stato anche Arianna insomma è importantissimo credo che il ruolo della famiglia e dei genitori diventa fondamentale per arrivare a questi traguardi assolutamente fondamentale credo che faccia parte anche questa di quella bella essenza che il nostro paese riesce ad esprimere valori che troviamo nello sport ma che nascono nella famiglia nascono nella cultura di quel senso di famiglia attraverso le nostre persone la nostra gente la signora Grazia insomma la conosco da una vita svolge il suo quotidiano tra l'altro con noi e nello stesso tempo non lo trasmette mai ciò che magari vive in maniera particolare come sta raccontando e esprimendo in questo momento lascia emozionato me che non faccio parte della loro famiglia ma avendo questa comunità così raccolta è come se un po' tutti quanti oggi lo fossimo o magari lo siamo sempre stati in tutto questo periodo di tempo in cui in maniera riservata ci siamo sempre così rivolti quella vicinanza torniamo da Claudio Perilli dal papà di Alessandra perché stavamo vedendo le immagini della finale e già vedere quella bandiera di San Marino quel nome di Alessandra Perilli lì sul tabellone elettronico del campo da tiro di Tokyo è già un qualcosa di straordinario poi insomma vincere una medaglia la prima nella storia Alessandra ha scritto questa pagina che rimarrà appunto nella storia della Repubblica di San Marino non solo dello sport mi hanno detto che lì fuori da casa Perilli c'è una bandiera enorme che è Claudio sì sì c'è la stessa bandiera che avevamo portato a Londra l'abbiamo tenuta in casa e oggi l'abbiamo stesa sul terrazzo e qualcosa è servito c'erano le lacrime di Londra e adesso ci sono quelle di Tokyo Claudio ma tu dici era la stessa bandiera di Londra l'avete conservata bene perché sapevi che prima o poi sarebbe arrivata questa medaglia eh sapevi non lo so ci speravamo tutti lei si meritava questo come si è meritato tutte le vittorie di sua sorella gli europei hanno sempre fatto un sacco di sacrifici e hanno preso il loro premio tutte e due la gara di questa mattina che sofferenza è stata davanti al televisore per un genitore per un papà che ha visto crescere queste ragazze Arianna prima Alessandra e poi le ha viste crescere praticamente fin da subito fin da piccole con il fucile in mano perché insomma quella era la loro passione quello era il loro grande obiettivo ti chiedo che mattinata è stata che mezz'ora è passato soprattutto alla fine quando l'Australiana era riuscita la Scanlan a mettere la testa avanti ho pensato a Londra ho pensato a Londra che se ci finiva così non si sarebbe meritata un altro quarto posto però l'avevo vista molto bene questa mattina era determinata sicura di sé è stata che un po' di fortuna ma ogni tanto che nello sport ci vuole un po' di fortuna questa volta la buona sorte ha girato verso San Marino visto che insomma a Londra a Londra non era andata bene questa volta Alessandra è stata bravissima con una grande finale ecco questa credo che no segretario Arianna sia l'istantanea di questa Olimpiade che ci porteremo dentro per sempre segretario sì per sempre non c'è ombra di dubbio ci sono voluti quasi 60 anni dal momento in cui il Comitato Olimpico San Marenese ha iniziato la sua attività il suo lavoro verso determinati obiettivi per cui se non altro ce la porteremo avanti per i prossimi 60 anni ma spero ancora di più affiancando a quell'immagine a quella a quella istantanea sicuramente tanti altri grandi risultati che Alessandra e tutto il team Olimpico San Marenese sono sicuro continuerà a regalarci ecco Arianna sì segretario consentitemi da rappresentante delle istituzioni davvero di fare i complimenti alla famiglia Perilli che io conosco per ovvie ragioni da anni ma sono sinceri e genuini perché credo che rappresentino davvero il bello della San Marenesità cioè il fatto di stare sicuramente lì nella loro riservatezza nel non dover particolarmente chiedere qualcosa come spesso consentitemi le abitudini locali a volte manifestano credo di davvero vedere quotidianamente la signora Grazia nelle sue mansioni quotidiane a Palazzo Begni e se in tutti questi anni mi abbia mai trasmesso segretario ma quelle ragazze hanno bisogno di aiuto no non l'hanno mai fatto e credo che proprio questo quella riservatezza quella dedizione quella passione poi porta alle cose più belle che si possono assolutamente vivere allora devo tornare subito da mamma Grazia a casa a casa Perilli perché questo è Grazia è un bel attestato da parte del segretario Elon Fernini il segretario allo sport lui che insomma festeggia come Perilli come la famiglia Perilli e come tutta San Marino questa medaglia Grazia grazie io la ringrazio enormemente segretario la pelle d'occa io ho sempre pensato che comunque l'onore al merito era solo il loro dovevano meritarselo meritarselo io non non potevo chiedere niente perché a parte che loro non volevano quindi non avrei chiesto alla loro insaputa e poi chiedere cosa cioè lei se l'è voluto guadagnare in campo e io penso che è la maggiore soddisfazione per un genitore per noi insomma comunque adesso spero che comunque sia abbia delle strade nel senso aperte e come dico e ripeto onore al merito noi siamo felici così assolutamente assolutamente felici come tutti i sanmarinesi come Arianna che la vedo commossa perché Arianna questo per Alessandra uno potrebbe pensare il quarto posto di Londra poi c'è stata Rio dove non è andata bene per tante cose soprattutto per le condizioni climatiche si è sparato con un vento fortissimo adesso le medaglie di Tokyo uno potrebbe pensare bene è arrivata la medaglia è arrivata il punto più alto io credo invece che sia un punto di partenza esatto è un punto di partenza perché poi quando martedì rientrerà a casa sarà già pronta a preparare un'altra gara sicuramente questo qui è l'apice è vero è la cima più alta che un atleta possa puntare però poi dopo ci sono ancora tante altre gare tante altre olimpiadi e quindi si torna a casa si ricomincia a lavorare e allora chiedo al segretario se la prossima settimana quando arriva Alessandra Perilli insomma se prepariamo qualcosa di particolare di speciale perché insomma una medaglia va festeggiata come si deve non vi nascondo che ci sto pensando lo faremo unitamente alla sua famiglia federale lo dovremo fare sicuramente anche nei confronti di tutti quanti i nostri atleti che torneranno in maniera un po' scaglionata e ritardata nel tempo rispetto ad Alessandra ma vi garantisco che sarà una festa una festa che svolgeremo come paese come attività di federazione come comitato olimpico lo faremo perché non per un senso dovuto ma perché credo che sentiamo tutti quanti la voglia di festeggiarla di festeggiarli e quindi insomma il tempo di arrivo e poi ci saranno grandi occasioni assolutamente segretario un'ultima domanda le chiedo quanto è importante per la Repubblica di San Marino in un momento così particolare questo risultato questa medaglia olimpica perché insomma questa mattina San Marino era sulle prime pagine di tutti i siti non solo quelli specializzati ma direi in generale italiani europei in tutto il mondo il nome di San Marino abbinato a quello di Alessandra Perini questo risultato avrebbe sempre avuto un grande valore indipendentemente dal momento il fatto che arrivi per il nostro paese oggi dopo un periodo difficilissimo non solo per le attività sportive ma per tutti per i cittadini per ogni sistema economico ha un valore multiplo è difficile calcolarlo proprio perché questo entusiasmo deve rappresentare a tutti gli effetti la vera rinascita del nostro paese la vera ripresa del nostro paese che deve svilupparsi proprio attraverso l'entusiasmo che ha saputo le garaci oggi stamattina Alessandra e quindi insomma ha un valore decisamente multiplo allora siamo praticamente alla fine io torno a casa perilli perché volevo salutare mamma Grazia naturalmente il ringraziamento per questo collegamento anche a papà Claudio anche ad Alessio Pinotti che è il compagno di Alessandra è stata una lunga notte una notte una notte di sofferenza ma anche è poi una mattinata di grande di grandissima gioia grazie sì sì è vero due notti senza dormire comunque sia è stata ripagata che dire io dico grazie veramente al segretario e a tutti voi alla Arianna che comunque in qualche modo mi ha sopportato in questi giorni in mancanza di come punto di riferimento di scarico lei quindi che dire io sono talmente felice che non ho le parole non saprei proprio come poter manifestare questa gioia che provo perché ce l'ho nel cuore quindi io dico sempre quando tutto ciò che fai lo fai con il cuore viene fuori sempre un capolavoro e questo è questo è un capolavoro assolutamente grazie un grande un grande capolavoro grazie a grazie a Raschi grazie a Claudio Perilli grazie a D'Alessio Pinotti per essere stato in compagnia con noi in collegamento e allora naturalmente andate pure a festeggiare poi teniamoci pronti perché ci sono ancora delle gare io ringrazio il segretario allo sport Teodoro Lonfernini grazie a Arianna Perilli davvero complimenti grazie a tutti per questa che appunto è una giornata davvero storica per la Repubblica di San Marino con la medaglia di bronzo di Alessandra Perilli alle Olimpiadi di Tokyo grazie e buona serata